Il protocollo prevede uno scambio di informazioni e una collaborazione rispetto a una sfida importantissima che è quella del PNRR che però deve avvenire cercando di centrare subito gli obiettivi fondamentali che sono quelli del rilancio della nostra economia, del nostro paese e non devono vedere chiaramente opportunità distolte da quelle che sono le finalità stabilite dalla legge. È una collaborazione di natura istituzionale dove si cercherà per il tramite le informazioni, dei dati e di uno scambio di collaborazione di individuare la certezza su rispetto alle giuste finalità che gli obiettivi del PNRR stabiliscono.